sempre primo settembre 2019 e abbiamo iniziato la via del ritorno con onde sempre vivaci in questo video vedremo il tratto dalla vela fino al molo d'avanzare abbiamo la corrente a favore il vento alle spalle e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo sia nei giri in kayak sia in quelli in bici oltre ovviamente a tutta l'attrezzatura per effettuare le riprese video a l'attrezzatura per effettuare le riprese Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove va questo col motore dentro le boie? Grazie a tutti. Direi che si sta calmando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Evidentemente qualcuno ci si è inopportunamente ormeggiato e il peso del motoscafolo trascinato più vicino arriva. Chiaramente la linea di riferimento è di quelle altre, non di questa. Grazie a tutti. E alla nostra destra vediamo il molo d'avanzare e di fronte le due sorelle. Questo video è finito. Ce ne sono di questo giro in kayak continua. Ciao, 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 ciao alla prossima!